Bella ragazzi qui Zetraf HD e benvenuti a questo mio nuovo video Quest'oggi siamo con il primo episodio della serie su Cetulet Era un video con quanto tempo ci è voluto anche per registrarmi Proprio perchè mi ha chiesto anche dopo la registrazione il codice di verifica Quindi ho dovuto mettere anche il mio cellulare E in tal caso ci tenevo a farvi presente una piccola modifica Ovvero che non registrerò con la mia webcam del computer Dal sito di Cetulet ma bensì registrerò con il mio iPhone E poi vedrò, magari farò qualche modifica e metterò appunto la inquadratura Che sto registrando adesso con l'iPhone nel quadratino presente su Cetulet Comunque lasciamo questa parte e credo che non si creano problemi comunque Detto questo partiamo subito Prima cosa da fare volevo selezionare In base a tutti coloro che hanno la webcam Perciò adesso devo vedere un po' come si fa In modo tale che si fa una ricerca solo con le persone che hanno la webcam Perfetto possiamo partire Allora vediamo un po' Ovviamente la ricerca ci mette a... Oh! Che cazzo! Oh! Hello! No! No! Fratelli Bravo! Il principio si è ginta la testa Aspetta Spero mi senti Mi senti mi senti mi senti Che cazzo sto a scrivere in italiano? Poi che questo non capisce un cazzo Che roba è? Ma stia a picciasi Siete quei rumori di sottofondo Pssss Francia Francia merda E Francia merda E Francia merda Vaffanculo francesi di merda Francesi di merda Oh ma basta Perché ce la facciamo questa Dai Rispondi però rispondi Rispondi Che cazzo saluti Che noi vogliamo vedere le tette cazzo Vogliamo queste Queste Dai come on Che sta a fa' questa No questo lo volevo vedere Ma certo che gli americani Se mettono i web che neanche si vedono in faccia C'è boh Ma quella era De Ring Scusate Questo è De Ring Uguale i capelli uguali Che stai a fa' Basta notare le mani per vedere quanto è vecchio questo Oddio Nega 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 Oddio questo Super gay Super gay Che deve fare Che devi fare No Che sta succedendo io No Che sta succedendo Ma che cazzo Vabbè quello Da mo' ti chiedo Se il vento è una droga Ma è affettato Oddio Oddio Che cazzo è questo Che stai a fa' Oh la maschera antigas Per gli ibrei Che cazzo Le faccia fai schifo Per il resto Bisogna vedere Comunque Guardiamoci Osteo Un francese negro What the fuck Che cazzo è Comunque signori Spero che questo video Vi sia piaciuto Purtroppo Oggi siamo già giunti Al termine di questo video In tal caso Vi invito a lasciare Un bel mi piace Di scrivere qui sotto Fra i commenti Cetrulette In modo tale Mi renda conto Se continuare questa serie Quindi tutti a scrivere Fra i commenti Cetrulette Nulla Un saluto da ZFHD Ci si becca Con il prossimo video Bella raga Ciao ciao